In piedi, seduti, prego si alzi signor Toretto, ho ascoltato le testimonianze e tenuto in particolare considerazione l'appello di clemenza fatto dall'agente O'Connor in suo favore, nel quale dichiara che le sue azioni hanno portato alla cattura del noto trafficante di droga Arturo Braga. Tuttavia, questa corte ha ritenuto che una sola buona azione non compensa una vita di reati. Pertanto, mi vedo costretto a condannarla al massimo della pena secondo la legge della California. Dominic Toretto, lei è condannato a 25 anni di reclusione nella prigione di massima sicurezza di Lampoc, senza possibilità di condizionale. La corte si è una giornata. La corte si è una giornata. Ese me lo rogo io! Te lo robas tu? Te lo robas tu de que? Ese me lo robas tu? Te lo robas tu? Si tratta di un ex agente federale, Brian O'Connor. Il traccia all'uomo è in corso per tre fuggitivi stasera. Molti agenti federali e locali hanno unito le forze per cercare Dominic Toretto e i suoi complici. Brian O'Connor è il mio Toretto. Ma nonostante le nostre forze di polizia abbiano battuto a tappeto la zona, di Toretto e O'Connor non c'è traccia.